ed eccoci qui benvenuti a fanat go go reloaded questo coso qui rompe le scatole va bene e cosa mi è venuto in mente di fare allora mi è venuto in mente di fare siccome quando avevo facebook avevo fatto dei ridoppiaggi ma non in chiave ironica ho fatto dei doppiaggi con le stesse battute di alcuni personaggi chiaramente il più gettonato è frankenstein seguito poi da alcuni spezzoni di fantozzi e di carlo perdone ora mi siamo chiesto come si fa a evitare la voce di fantozzi allora fantozzi prima di tutto fare evitazioni di fantozzi diciamo che è abbastanza facile come quella di cilentano infatti dopo cilentano penso che sia il personaggio più imitato al mondo in italia caratteristiche del personaggio che bisogna essere goffi bisogna essere timidi e parlare con la voce chiusa come se si avesse l'asma perché 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 il personaggio di fantozzi in questo personaggio è timido non riesce a parlare non riesce a goffa appunto come dicevo quindi per imitare diciamo la voce bisogna chiudere la gola praticamente come se avessimo l'asma e tipo per esempio permesso e non mi ha riuscito quindi più alla voce chiusa più la voce asmatica e più reale diciamo l'imitazione quindi per esempio una scena che del film di tanti film insomma di fantozzi potrebbe essere questa la curazzata pochioschi ma come mano lei tutte le domeniche le riprese oh no e nemmeno mi è venuto tanto bene si ogni tanto fa queste risate un po diciamo strane insomma delle risate strane in cui quando dice si pirolo aspetta adesso io lo dico ma come mano lei una promozione se indovino chi ha vinto il giro d'italia oh no non me lo ricordo e va bene dopo questo misero tentativo di fare di provare a fare l'imitazione di ugo fantozzi ugo fantozzi ogni personaggio di questo tipo ha sempre una spalla che è che lo rende ancora più tipico per esempio su fantozzi abbiamo il direttore mega galattico come su fracchia che è la stessa cosa dei fantozzi come caratteristiche cioè se ha questa voce chiusa abbiamo Gianni Agus che è sempre il direttore ultra galattico possiamo dire perché degli anni 70 che se li ricorda insieme a me e poi altri personaggi ci sono sempre che ne so per esempio celentano vabbè ha vari partner femminili per esempio innamorato pazzo ci sta dolfo cieli il re perché lei era una principessa e anche questo ho doppiato nel facebook va bene piccolo vlog così che ha registrato la volemuse bene come viene viene in cui ho invitato ho cercato di imitare fantozzi allora arrivederci al prossimo video ciao no torno in me perché forse è meglio grazie della visione ciao a tutti